A seguito della mareggiata che ha prodotto l'incagliamento di alcuni pescherecci e per evitare conseguenze anche alle persone, si è intervenuti con un'attività urgente, come si può anche vedere, anche oggi sono al lavoro. Nel rispetto del programma che abbiamo concordato anche con i rappresentanti della marineria, si tratta di lavori urgenti che presuppongono il trasferimento di 5.000 metri cubi, diciamo così, allocati nelle vasche provvisorie, alle mie spalle, e al trasferimento a discarica in quanto classificati in categoria D ed E dall'Arta e quindi non utili al ripascimento, diversamente dai primi 5.000, e poi si procederà, come si sta facendo, al dragaggio di ulteriori 10.000 metri cubi. Tutto ciò in previsione anche dell'intervento per quanto riguarda i lavori strutturali qui al porto. Ma questa quantità dragata basterà per risolvere i problemi? La quantità dragata consentirà di mettere in sicurezza le attività per un certo periodo di tempo. Certo, le mareggiate in assenza delle infrastrutture portuali continueranno a insabbiare il porto di Pescara, ma ci sono in corso, l'otto mercoledì prossimo, si fermerà il contratto con l'impresa da parte del provveditorato per la realizzazione della soffolta, che è un altro lavoro che va in contemporanea con il taglio della diga e che precedono la realizzazione dei moli. Il completamento di tutte queste infrastrutture ci fa sperare che i lavori di dragaggio, sempre necessari in un porto, saranno sempre in misura ridotta nel prossimo futuro. Però c'è bisogno di correre nei tempi realizzativi di una infrastruttura che garantisce e garantita da una copertura finanziaria attraverso il master plan nei fondi regionali messi a disposizione per questa infrastruttura.